Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati. È un piacere aprire questo webinar su un tema molto particolare e molto caro. Innanzitutto, per chi non la conoscesse, una breve introduzione sulla Fondazione. La Fondazione Lavoro per la Persona è una fondazione che ha la missione di valorizzare il lavoro in quanto risorsa e espressione della persona, dunque incentrandosi su questo rapporto molto prezioso e da coltivare nelle attività umane. La Fondazione agisce attraverso attività di ricerca, anche attività culturali e attività di educazione anche nelle scuole e divulgazione, quindi promozione. Il tema di oggi si ricollega agli appuntamenti precedenti, in particolare siamo al secondo appuntamento autunnale dei webinar della Fondazione, in quanto si riprende il tema della sostenibilità, in particolar modo sostenibilità intesa a livello di sostenibilità sociale. Quindi il tema di questa sera è quando il lavoro genera stress, quale sostenibilità per le imprese e le persone. Dunque è un tema veramente molto importante e di maggiore importanza anche dopo la pandemia. Quindi dal Covid in avanti la scala di valori e di priorità delle persone è andata modificandosi e dunque tematiche legate a questo filone sono sempre più prese in considerazione e dunque devono trovare sempre una maggiore risposta sul fronte organizzativo per quanto riguarda in particolare le risorse umane. Dunque per quanto riguarda lo svolgimento del webinar avremo il piacere di avere con noi come relatrice Paola Magnano che ringraziamo per aver accolto l'invito. Paola Magnano è professoressa ordinaria di psicologia sociale all'Università Corridienna e in particolare si occupa di tematiche legate al career counseling e all'impatto psicologico delle transizioni di carriera. Dunque sarà molto interessante averla con noi per introdurre il tema e comprendere anche quelli che sono proprio gli impatti psicologici che vanno a crearsi nel corso delle attività lavorative. Successivamente avremo una tavola rotonda composta da Annalisa Banzi che è ricercatrice presso il CESPEB che è il centro di studi della storia del pensiero biomedico presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. La dottoressa Banzi è una ricercatrice in innanzitutto storia dell'arte e ha aggiunto alla sua formazione, al suo percorso di ricerca anche una componente legata alle neuroscienze. Dunque si fa portatrice insomma di un ambito molto interdisciplinare che davvero trova ricchezza l'uno nei campi dell'altro. Dunque sarà un piacere poterla avere con noi e successivamente avremo con noi anche Petra Chistè che si occupa della sicurezza presso Wolfsbank. Dunque avremo modo di avere nella tavola rotonda un confronto tra due realtà apparentemente distanti che in realtà si possono parlare e dialogare in quanto Annalisa Banzi si racconterà come il progetto, che è un progetto ASBA sarà centrale nella proporre una metodologia con cui affrontare lo stress grazie ad alcune visite museali attraverso l'utilizzo di metodologie specifiche legate al mondo della creatività e successivamente con Petra Chistè vedremo come lo stress all'interno dei contesti lavorativi si pone in relazione a un contesto, quello appunto bancario, dove il risultato è il primo obiettivo. Quindi vedremo come interagiranno queste due componenti e come si possono anche arricchire a vicenda. Dunque ringrazio tutti per la partecipazione e cedo la parola alla professoressa Magnano con intenzione appunto di introdurre il tema in maniera tale da poter mettere le basi poi per lo sviluppo della tavola rotonda. Grazie mille. Grazie, grazie Alessandra, grazie alla Fondazione Lavoro per la Persona per questo invito. È il tema insomma di cui tratteremo oggi certamente un tema complesso, un tema che richiede una profonda riflessione e che deve superare appunto come arriverò un po' a concludere alla fine del mio discorso una concezione di tipo causa-effetto o di spiegazione lineare. Insomma dal testo unico sullo stesso lavoro correlato è stata fatta tanta strada negli studi che riguardano lo stress, nella concezione dello stress nei luoghi di lavoro e soprattutto è stato necessario proprio in risposta agli eventi degli ultimi anni un cambio di paradigma dal concetto di stress al concetto di benessere. Quindi noi ci occupiamo del malessere delle persone per promuovere il benessere nelle organizzazioni e di conseguenza questo innanzitutto ci richiama ad una prima riflessione appunto che è quella del cambio di paradigma e l'attenzione alla promozione del benessere significa prendersi cura delle persone non significa soltanto curare i sintomi del loro malessere ma significa farsi carico delle persone nella loro totalità quindi del lavoratore ma sappiamo che il lavoratore è anche una persona che ha altri contesti di interazione altri contesti di vita e questi in un modo o nell'altro poi eh si contaminano con la vita lavorativa e questo aspetto non può essere eh non tenuto in considerazione quando si parla di promozione del benessere. Un'altra eh un'altra diciamo un altro interrogativo un altro eh un'altra riflessione eh sulla eh sul preliminare rispetto al concetto di benessere nelle organizzazioni è la domanda che ci dobbiamo porre cioè su quale benessere cioè di quale benessere stiamo parlando perché fino ad un certo punto anche negli studi eh di psicologia delle organizzazioni il benessere in qualche modo ehm coincideva o si sovrapponeva al concetto di soddisfazione lavorativa job satisfaction che è una parte del benessere certamente ma riguarda quella parte del benessere che eh utilizzando il framework teorico della psicologia positiva chiamiamo chiamiamo benessere edonico cioè la ricerca eh di di della soddisfazione di riguardante il raggiungimento di uno specifico compito di uno specifico obiettivo ma un po' dell'esperienza personale un po' perché c'è una grande letteratura in proposito sappiamo benissimo che eh questo non è sufficiente non è più sufficiente e ce l'hanno ce l'ha dimostrato eh il fenomeno delle grandi dimissioni che ha riguardato tutto il mondo occidentale dopo la pandemia perché ha proprio sollecitato una riflessione su un più ampio concetto di benessere che riguarda quello che viene chiamato prendendo in prestito naturalmente un termine della filosofia antica il benessere eudaimonico il benessere eudaimonico che è correlato che è associato alla ricerca di senso e di significato attraverso l'attività lavorativa che poi è la ricerca di senso e di significato che riguarda la nostra vita ma sappiamo perfettamente che per chi ha un lavoro il lavoro rappresenta una parte eh centrale importante della propria vita se non altro perché in termini di tempo speso eh appunto è forse la l'attività che riveste eh appunto a cui dedichiamo più tempo durante la giornata ma anche perché il lavoro rappresenta conferisce identità alle persone l'identità professionale è una parte rilevante dell'identità personale quindi in questo caso quando parliamo di benessere eh e di ricerca di significato quindi di benessere inteso come ricerca di significato eh ci poniamo dobbiamo riflettere eh su altri tipi di obiettivi che il lavoro ci permette di raggiungere quindi non soltanto eh il gli obiettivi legati al compito ma le prestazioni legate al contesto e quindi alle relazioni nell'ambito dell'organizzazione quindi questo è un primo ambito di riflessione che volevo condividere con voi un secondo ambito di riflessione un po' lo anticipavo in apertura riguarda la complessità del fenomeno e eh il lo stress è un fenomeno complesso adesso io cercherò un pochino eh di dare alcune eh chiavi di lettura di questa complessità e quindi ridurlo semplicemente ad una questione di relazione causa-effetto se io tolgo uno stimolo allora ottengo un risultato o se io aggiungo uno stimolo allora causo una un malessere ecco questa chiave di lettura non ci aiuta ehm perché non soltanto non spiega il fenomeno ma soprattutto non è utile dal punto di vista operativo perché ehm in qualche modo è come se suggerisse che esistono delle ricette cioè delle delle eh indicazioni preconfezionate che vanno bene per tutti per tutti i lavoratori per tutte le organizzazioni e che permettono poi al lavoratore di stare meglio e all'organizzazione di essere più efficiente e purtroppo non funziona così ma perché non funziona così in nessuno dei fenomeni umani perché eh i fenomeni umani eh sono fenomeni complessi perché l'uomo ha un funzionamento complesso e se poi ci mettiamo che il lavoro eh deriva anche dall'interazione di più persone e delle persone con l'organizzazione questa complessità aumenta. E quindi questo diciamo è lo scenario nel quale eh ci muoviamo quando parliamo di benessere nelle organizzazioni e mh però ecco eh le il il senso comune ci suggerisce anche eh alcune domande per esempio ehm lo stress lo stress è sempre nocivo? E poi è vero eh che tutte le persone riducono le loro prestazioni quando sono sotto stress oppure ci sono persone che invece lavorano meglio sotto stress come per esempio eh potrebbe suggerirci anche la nostra esperienza personale ehm allora rispetto alla prima domanda no lo stress non è sempre nocivo ma diventa nocivo quando è prolungato cioè quando eh viviamo quando il lavoratore la persona l'individuo vive una condizione prolungata di attivazione non dimentichiamoci che quando parliamo di stress noi ci riferiamo a eh un processo che è al contempo ormonale fisiologico cognitivo ed emotivo e quindi tutta questa attivazione naturalmente può essere retta dall'individuo per un tempo limitato e quindi è vero che ci sono persone che in eh in quando si trovano sotto pressione riescono a rendere meglio ma quale tipo di performance riescono a eh produrre in eh in maniera qualitativamente migliore? E generalmente sono le performance legate agli obiettivi quindi gli studi eh scientifici in questo ambito ci dicono che le persone sotto stress lavorano meglio quando devono raggiungere degli obiettivi specifici. però ci sono altri tipi di performance che il lavoro nelle organizzazioni richiede e sono quelle performance che sono legate alla dimensione della relazione quelle che vengono chiamate le context related performance cioè tutti quei comportamenti che contribuiscono a al clima organizzativo che contribuiscono alla qualità delle relazioni parliamo per esempio dei comportamenti di cittadinanza organizzativa, i comportamenti di supporto e di aiuto ai colleghi, i comportamenti di eh coordinamento, di eh di di integrazione, i comportamenti anche eh di appunto tutto a tutta la dimensione eh legata alle relazioni e alla qualità delle relazioni e gli studi ci dimostrano che le prestazioni eh che sotto stress sono queste prestazioni che soffrono e quindi il rischio è che nel nel medio e nel lungo termine le organizzazioni soffrano di un eh di un clima eccessivamente competitivo eh di eh soffrano di una scarsa qualità delle relazioni tra i colleghi, della percezione di una mancanza di supporto da parte degli altri proprio perché non c'è tempo per potersi dedicare a questo genere di eh di comportamenti che però sono funzionali al benessere delle organizzazioni. Quindi eh ecco privilegiare un aspetto rispetto all'altro rischia di eh di certamente eh investire negli negli obiettivi a breve termine ma rischia di deteriorare invece eh il eh il lavoro in una prospettiva di medio e lungo termine. Poi non dimentichiamoci che eh il quando parliamo di stress, dicevo prima abbiamo a che fare con una persona nella sua totalità, gli stressor cioè le fonti di stress adesso poi cercheremo anche di capire eh a cosa ci riferiamo non derivano soltanto dal eh dall'ambiente lavorativo ma derivano anche da tutto l'ambiente di vita della persona ed è difficilissimo separare gli uni dagli altri. Molto banalmente un lavoratore che magari fino ad un certo punto riesce della propria vita riesce a gestire il carico di lavoro eh con buoni risultati eh e anche con una sufficiente resistenza mh eh deve affrontare un evento nella propria vita personale per cui deve accudire un genitore malato eh deve accudire un figlio che è nato, deve affrontare una separazione, un divorzio, un trasloco, un qualsiasi evento normale nella vita di una persona ma naturalmente questo è un aggravio di richieste che seppur non direttamente legate al lavoro ma ricade sempre sulla stessa persona per cui è difficilissimo poi calibrare tenendo conto anche della vita individuale al di fuori dell'ambiente organizzativo e però di questo non possiamo non occuparci cioè le persone eh non vivono soltanto dentro l'organizzazione ma vivono anche al di fuori dell'organizzazione e questo è un ulteriore elemento di complessità che è necessario tenere in considerazione. Allora eh a questo punto dopo aver messo un po' di carne al fuoco riguardo a tutte le diciamo difficoltà nella lettura di questo di di questo tema allora io mh così vi vi propongo ecco condivido con voi quello che la letteratura ci suggerisce su su questo tema che è un modello che mh io trovo molto utile eh per eh ecco avere delle eh delle linee guida per leggere i fenomeni eh questo modello si chiama eh job demand and resources eh quindi è un modello diciamo eh condiviso è eh molto diffuso nella letteratura in psicologia delle organizzazioni ed è un modello eh che appunto ripeto io trovo molto utile mh proprio perché eh è una chiave di lettura che ci permette di capire su come come agire su cosa agire allora sostanzialmente il problema è una eh la questione è legata all'equilibrio cioè l'equilibrio tra le richieste e le risorse quindi non è vero non è detto che le le eh ci siano delle richieste eccessive in senso assoluto perché la percezione che le richieste siano più o meno adeguate dipende dalle risorse e le risorse sono personali e sono lavorative quindi derivano dal contesto lavorativo o derivano anche dalle caratteristiche individuali ma sono anche variabili nella nell'arco temporale cioè dipendono da lavoratore a lavoratore ma dipendono anche dal momento di vita del lavoratore così come le richieste eh possono essere richieste che per quanto eccessive o eh o o diciamo in termini quantitativi ehm eh grandi o o punto o punto molteplici possono essere sfidanti e quindi nel momento in cui le richieste sono sfidanti il lavoratore si sentirà motivato se se percepisce di avere le competenze di avere le risorse per poter riaffrontare indipendentemente dal fatto che siano molte no quindi è la qualità delle richieste è la qualità delle risorse quella che può diciamo fare spostare l'ago della bilancia da un equilibrio ad uno squilibrio le richieste possono essere ostacoli possono essere percepiti come vincoli possono essere percepiti come barriere pensiamo per esempio alla mancanza di autonomia la mancanza di autonomia rappresenta un elemento che ostacola la possibilità di un lavoratore di procedere di prendere decisioni eh di assumersi la responsabilità se deve per tutte le cose che deve fare chiedere eh avere la conferma avere l'autorizzazione a fare qualcosa le risorse appunto da un lato dall'altro lato sono quelle che mi permettono di fronteggiare le richieste e queste risorse dicevo derivano dalla dall'ambiente di lavoro il supporto dei colleghi è una risorsa e l'autonomia è una risorsa la responsabilità è una risorsa ma possono essere anche risorse personali quindi eh derivano dalla dalla delle caratteristiche psicologiche delle persone dalla resilienza dalla dall'autostima dalle competenze naturalmente quindi ecco eh questo modello che la letteratura ci offre ripeto eh ci sono decine centinaia di articoli scritti eh su su questo ehm proprio ci pone l'accento sulla eh sull'equilibrio tra questi due aspetti allora ecco forse questo può essere un suggerimento naturalmente al momento esclusivamente sul piano teorico per poter ecco cominciare a leggere ecco il il processo che poi porta allo stress quello che definiamo stress buono eh c'è proprio l'accezione leo stress quello che attiva le persone eh e le motiva ad andare avanti ehm ed evitare che poi diventi stress cattivo quello che definiamo di stress quello che appunto noi percepiamo su noi stessi quando diciamo mi sento stressata mi sento stressata significa non ce la faccio a reggere il carico e a volte anche le persone che sono capaci che sono competenti che sono ehm che fino a quel momento sono riuscite a farlo però non ce la fanno ecco proprio perché evidentemente si è alterato questo equilibrio allora ecco per un po' concludere tirare le fila di questa riflessione di questa breve riflessione ehm è necessario intanto assumere una prospettiva processuale quindi non ci sono relazioni di causa effetto ma ci sono appunto processi che si snodano nel tempo e che sono processi che possono riguardare in maniera differente le persone e quindi possono appunto richiedono anche una chiave di lettura personalizzata individualizzata eh sono eh preoccuparsi del benessere delle persone in questa prospettiva significa porsi degli obiettivi di medio e lungo termine quindi pensare a una dimensione che investe nell'organizzazione nella qualità delle relazioni perché nel medio e nel lungo termine è questo che poi eh darà senso e significato al lavoro alla al lavoro ecco è al al lavoratore è un lavoratore che percepisce il senso del proprio lavoro è un lavoratore che sta meglio eh e che quindi può dare di più all'azienda e e poi appunto la necessità di porre l'accento sull'attribuzione di valore sia alle persone che al lavoro vi ringrazio per per avermi ascoltato e adesso eh imparerò anche io qualcosa dalle eh dagli interventi successivi grazie mille per per questa lezione è stata veramente preziosa e in particolar modo quando eh citava il fatto che ehm gli interventi ehm di ehm che fanno fronte alla gestione insomma dello stress eh debbano essere eh personalizzati sia in funzione dell'organizzazione sia in funzione dei lavoratori perché non sono non c'è una ricetta universale insomma e e quindi assolutamente eh occorre eh fare anche un'analisi del contesto in cui in cui si sta operando e del team insomma a livello molto molto specifico e colgo l'occasione per collegarmi eh al progetto ASBA che appunto è stato ehm progettato e curato da Annalisa Banzi assieme ad un team dell'università degli studi eh di Milano Bicocca e ehm su questo poi lascio la parola a lei che sicuramente eh lo conosce molto molto meglio di me eh l'acronimo sta per Anxiety Stress Brain Friendly Museum Approach ed è eh quindi impone al centro eh il museo come luogo eh in cui eh effettivamente si possa alleviare lo stress attraverso alcune metodologie ehm creative che eh del quale però è stato studiato anche il risvolto eh a livello neurologico attraverso appunto una raccolta dati sia qualitativa che quantitativa eh sia eh precedente eh che contestuale all'intervento e sia successiva all'intervento stesso e in particolar modo ho avuto la fortuna di incontrare la dottoressa Banzi eh ad uno di questi incontri che erano aperti al pubblico in particolare avevo partecipato ad una sessione in cui la metodologia utilizzata era l'arte terapia e e dunque era appunto eh eravamo ehm all'interno eh della sala del museo e eh l'arte terapia è stata utilizzata come strumento eh per lavorare sulla gestione dello stress attraverso proprio la fruizione di di alcune di alcune opere e per cui eh mi aggancio a questo ehm questo collegamento eh per fare una domanda eh alla la dottoressa Banzi in particolar modo se innanzitutto ci può introdurre eh il progetto e ehm in che modo in particolare ehm sono state svolte eh le ultime fasi del progetto relative eh alla eh alla sua applicazione nel Museo d'Arte Orientale di Torino dove è stato eh dove è stata effettuata una sperimentazione eh proprio eh sui ehm sul personale museale eh e dunque vediamo anche come questo ehm questo progetto è stato applicato anche al personale e come eh ha influenzato anche eh il gruppo di lavoro in questo caso eh e quali sono insomma le leve che che muovono in questo contesto. Grazie mille. Allora ringrazio la dottoressa Monti e il dottor Tintino per l'invito molto gradito. Io sono storica dell'atte quindi eh posso raccontare il mio punto di vista che ho cercato poi di eh coniugare insieme a quello dei colleghi perché è un come diceva la dottoressa Monti è un team ehm di con con ricercatori con diversi expertise quindi sicuramente ci sono i miei colleghi psicologi e i miei colleghi ehm medici eh che hanno aiutato tantissimo da questo punto di vista in realtà poi il gruppo eh contempla anche la il coinvolgimento di altri eh altri ricercatori. Il tempo è molto il tempo tiranno quindi cercherò di essere estremamente sintetica. Allora ASBA nasce nel 2022 eh dopo quindi tutta la situazione pandemica e eh la domanda è stata quella di cercare di eh venire in soccorso alle persone che magari non avevano una diagnosi di eh ansia o di stress quindi non avevano delle patologie conclamate ma comunque tutti ne abbiamo risentito quindi l'idea era quella di promuovere delle attività in museo che potessero venire incontro a tutti noi. Quindi una prima fase si è svolta a Milano per i cittadini maggiorenni e eh abbiamo avuto eh subito il supporto del Museo di Stora Naturale e della Galleria di Arte Moderna quindi dei una direzione estremamente illuminata che poi è stata seguita anche dal personale del museo che eh ci ha supportato durante tutto il percorso e abbiamo proposto delle attività eh la mindfulness, l'arte terapia, le visual thinking strategies, il metodo ARTAP e un metodo totalmente sperimentale che si chiama Nature Art basato sulla combinazione di stimoli del patrimonio culturale e della natura. Purtroppo non riesco a entrare nei dettagli quindi mi perdonerete se eh non racconterò le varie metodologie. Eh il progetto eh è stato si basa su un protocollo di ricerca eh quindi un documento, il protocollo di ricerca è un documento che descrive le varie fasi della 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 sperimentazione di come verrà condotta ehm e che è stato approvato dal comitato etico dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Eh la seconda fase è è stata eh portata avanti quindi Milano, cittadini maggiorenni, Torino abbiamo lavorato con il personale museale. Eh in questo caso ci è venuto in aiuto il museo di storia, il museo ehm d'arte orientale, il MAO che eh entusiasticamente poi ha coinvolto anche il team di eh Palazzo Madama e della Galleria di Arte eh moderna. Quindi insomma eh alla fine abbiamo avuto un un gruppo piuttosto eh eh piuttosto numeroso ecco perché erano il il personale di tre di tre musei e il è anche molto bello perché eh letteratura al momento non ci sono degli studi sul personale museale, sul benessere del personale museale quindi anche questo per noi è una fonte di eh di stimolo per continuare eh ad andare avanti. Poi adesso appunto il tempo è abbastanza limitato quindi eh abbiamo visto che eh in linea generale si può dire che mh ASBA eh vorrebbe contribuire a facilitare la risoluzione degli imprevisti eh vedendo il contesto e i colleghi come un supporto proprio perché ci sono queste attività che vengono svolte e che permettono di eh piano piano di conoscere i propri, conoscere meglio eh i propri colleghi e quindi quando ci si trova di fronte a un problema eh può risultare meno ansiogene, meno stressante proprio grazie alla possibilità di di chiedere aiuto. E entrando un po' più nel dettaglio eh con la mindfulness ad esempio eh io non sono un istruttore ma abbiamo un istruttore certificato eh la dottoressa Guidotti che ha condotto tutte le sessioni eh sia a Milano che a Torino però insomma posso dire che eh in linea di massima la mindfulness aiuta a sviluppare la capacità di rimanere presenti in situazioni magari possono essere spiacevoli limitando quindi la propria reattività a quelli che sono dei fattori che per noi sono stressanti e quindi questo ci permette di gestire in modo più efficace le difficoltà che incontriamo. E l'arte terapia che citava prima la dottoressa eh Monti può essere un altro strumento estremamente utile eh ovviamente non posso elencare tutte le metodologie che abbiamo utilizzato però ad esempio l'arte terapia permette di esprimersi, di esprimere le proprie emozioni in un modo simbolico che può essere condivisibile anche con i propri colleghi che magari sono delle persone con cui abbiamo un ottimo rapporto ma magari non abbiamo un'intimità come con un parente piuttosto che un amico eh caro. E quindi utilizzando delle metafore visive eh ci si può aiutare a comunicare in modo chiaro senza però rivelarsi completamente. Quindi è anche un modo di ehm l'utilizzo di una comunicazione non verbale che avviene attraverso appunto nel caso specifico eh dei musei eh con l'utilizzo ad esempio di disegni, della creta eh quindi la possibilità di colorare, disegnare, creare ehm quindi la possibilità di comunicare ehm attraverso qualcosa che non è verbale e che magari ehm la parola non riesce a eh ad esprimere in maniera efficace. e direi che una parola chiave che eh che 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 ritorna nel nel progetto ASBA e che eh ehm contraddistingue gli obiettivi di ASBA è quello di eh generare o aumentare consapevolezza. Quindi ehm cosa sono l'ansia e lo stress? Quali sono dei metodi efficaci per gestire questo 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 o l'emozione dell'ansia eh sviluppare una consapevolezza collettiva all'interno del gruppo di lavoro ma anche rendersi con rendere un gruppo o gli individui consapevoli del fatto che il museo attraverso delle attività mirate può contribuire al benessere dei lavoratori rispettando sempre però questa istituzione culturale quindi rispettandone la missione rispettandone le collezioni quindi in questo dialogo con gli oggetti si inizia a conoscerli e nello stesso tempo si esce che si è ristorati ristorati mentalmente ma anche in un certo senso fisicamente. Quindi il museo nella sua complessità diventa un luogo che supporta la nostra salute mentale. ormai questo è qualcosa che viene riconosciuto anche a livello a livello mondiale ecco eh io non so se sto eh se posso continuare o se mi interrompo perché poi se volete vi parlo dei focus group che abbiamo tenuto all'interno del museo di ehm del museo di ehm del museo d'arte orientale per darvi un'idea di quello che è stata l'evoluzione di questo gruppo meraviglioso che nonostante fosse eh molto coeso come tutte le realtà non c'era i limiti alla perfezione al miglioramento quindi eh è stato bello vedere anche eh un gruppo che già partiva molto bene che comunque ha avuto dei dei benefici quindi magari mi mi interrompo qui e poi se volete riprendo eh successivamente. allora penso che abbiamo ancora qualche qualche minuto perché ehm proprio ehm proprio tre quattro minuti se se vuole e poi passiamo a seguire. Allora eh per quanto riguarda il focus group eh che abbiamo tenuto a a Torino alla fine di ogni ciclo quindi alla fine della mindfulness dell'arte terapia del di natural art e nel caso di di Torino abbiamo proposto il chair yoga quindi lo yoga da seduti che è una pratica molto inclusiva nel senso che permette di essere ehm così ehm coinvolgere tutti a tutte le età persone anche che magari hanno delle qualche difficoltà motoria e anche eh permette di eh tenere come dire ehm mantenere in sicurezza gli oggetti che sono esposti. e ehm ad esempio nei focus group abbiamo visto che inizialmente la discussione era un po' frammentata e invece poi con il passare del tempo delle settimane è diventata più fluida e si è orientata, si è proprio più focalizzata alla risoluzione dei problemi che ovviamente qualsiasi team può avere. e se i primi incontri magari erano più centrati su delle questioni personali perché giustamente ognuno parte dalla propria esperienza poi con il passare del tempo ancora una volta il focus si è spostato e quindi si è cominciato proprio a eh percepire in maniera più forte il gruppo e quindi a eh focalizzarsi sulle dinamiche del del team che poi è uno degli obiettivi principali del progetto l'idea proprio di promuovere un ambiente di lavoro che sia eh accogliente che sia piacevole ma sia anche eh appunto quindi meno stressante. abbiamo notato anche che le procedure eh rutinarie che ognuno di noi fa in un lavoro quindi che ci permettono magari di ehm entrare in contatto con un collega parzialmente nel senso che magari appunto eh in queste attività quotidiane si conosce parzialmente il nostro ehm il nostro compagno di lavoro e quindi eh la possibilità di attraverso questi metodi che ha proposto ASBA di ehm ehm eh avere un contatto diverso in una in una modalità diversa con il mio collega ecco questo ha ha ampliato la conoscenza tra i membri del del gruppo e quindi ha anche migliorato la comprensione non solo del 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 gruppo dei membri del gruppo ma anche del contesto lavorativo e nel lungo periodo noi eh ci aspettiamo noi come team quindi insieme agli psicologi ai ai eh ai medici ehm ingegneri eh gli istruttori certificati che eh ci accompagnano ci aspettiamo che questi miglioramenti che abbiamo potuto notare nelle dimaniche di lavoro ecco abbiano un effetto duraturo e se possibile anche domino nel senso che abbiano un impatto positivo anche sulla vita privata delle persone e sulla salute sulla loro salute perché eh se io sono insomma alla fine della giornata sono eh soddisfatto sicuramente anche quando torno a casa posso avere un modo più gradevole di propormi ai miei familiari ai miei amici e diciamo che Asba eh coltivando l'intelligenza emotiva ma anche altri aspetti cognitivi e grazie anche alle strategie che sono state proposte ehm cerca di offrire una visione nuova di quella che è la realtà lavorativa quindi eh cerca di migliorare quella che è la capacità di risolvere i problemi in un modo creativo quindi in un modo diverso da quello che ehm normalmente magari siamo portati a a fare perché siamo magari imbrigliati in determinati limiti ehm chiamiamoli mentali ehm un ultimo un ultimo aspetto che mi ehm che vorrei condividere con voi eh che abbiamo notato è quello del della promozione della consapevolezza della complessità delle situazioni nel senso che ehm attraverso queste attività ehm le persone diventano più sensibili a quello che è il ruolo il loro ruolo all'interno di un di un team e quindi ehm diventano sempre più sensibili perché ovviamente si parla di almeno nel caso di di questi musei di eh di come dire di gruppi di lavoro che già sono come si diceva prima coesi che lavorano bene ehm ehm l'idea è quella di eh rendere sempre più sensibili le persone verso quello che è il loro ruolo e quindi quando c'è la possibilità di intervenire in quanto membro di un team e quando invece è necessario accettare la situazione tollerando l'incertezza tollerando le sfide quotidiane che siano grandi o piccole eh ASBA inizialmente non nasceva per le aziende perché appunto nasceva per cittadini maggiorenni per il personale museale e il prossimo step sarà per i cittadini minorenni che voi sapete benissimo che hanno avuto anche loro grandi eh che dire difficoltà dopo la pandemia però eh stiamo vedendo che le aziende ehm hanno stanno guardando anche a questo tipo di attività e quindi eh ci stiamo organizzando anche per venire incontro a questo tipo di di esigenze. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Eh assolutamente è stato un intervento molto interessante anche alla luce di di quello che si diceva sulla sulla personalizzazione degli interventi e sul fatto che comunque lo stress vada ehm vada gestito in relazione al fatto che la persona eh è da considerarsi nella sua globalità quindi considerando anche le altre sfere al di fuori di di quella lavorativa che comunque ehm compongono il il puzzle che che la persona è anche 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 a lavoro e mi mi sposto eh da questa dimensione eh ad un'altra che appunto apparentemente può sembrare lontana ma mi auguro che pian piano diventi sempre più più vicina grazie a questa tipologia di interventi che è quella ehm di eh della realtà eh bancaria eh in particolar modo eh di un grande orientamento al al risultato. abbiamo con noi appunto eh che abbiamo con noi appunto eh la dottoressa Chistè che è ehm responsabile della sicurezza in Wolfbank e e dunque eh quale eh ruolo eh più 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 adatto per parlarci eh della gestione dello stress in relazione anche a quella che era eh necessità di ehm di garantire ehm di garantire eh costantemente eh sicurezza in ambito bancario al cliente quindi magari come possiamo ehm trasferire la gestione dello stress nei confronti del cliente anche al proiettandolo verso verso l'interno nella gestione delle relazioni invece eh con con i colleghi a livello a livello interno. e come quindi sia possibile anche ehm in un'organizzazione eh particolarmente eh particolarmente orientata eh risultato eh arrivare a eh far fronte a quelle che possono essere eh le tipiche barriere eh alla gestione dello stress soprattutto per il eh il il middle management che eh deve far fronte insomma a esigenze ehm sempre più diversificate. Cedo cedo la parola alla dottoressa Chistè e grazie. Grazie mille. Allora sicuramente l'ambito bancario e come già anticipato è forse uno degli ambiti dove lo stress orientato diciamo al raggiungimento di obiettivi è eh è proprio un principe no della nostra eh organizzazione. e mentre fino a pochi anni fa eh la parte di gestione dello stress era un mero compito e adempimento normativo perché ricordiamo che per le organizzazioni la 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 valutazione dello stress lavoro correlato è obbligatoria e così previsto dall'INAIL e adesso posso dire con soddisfazione che quantomeno eh nella nella mia realtà ehm questa fase di mero obbligo eh normativo si è trasformato in quello che noi amiamo chiamare appunto progetto benessere e qua mi ricollego all'intervento iniziale della dottoressa Magnavo dove appunto sottolineava il fatto che ormai non si parla più di stress ma si parla di benessere del lavoratore e e mi sono ritrovata anche molto eh nell'accezione del lavoratore e delle persone che lavorano all'interno dell'azienda in particolar modo noi amiamo eh riferirci a noi collaboratori di Volksbank come una persona a tante facce no? Quando a me si presenta un mio collaboratore un mio collega ho davanti a me in quel momento la faccia di Petra come lavoratore ma Petra è una persona una donna e nel mio caso sono una mamma ma ho ancora la fortuna di essere una figlia anche e sono una compagna quindi ci sono tante persone che ho davanti in quel momento e magari il lavoratore sta benissimo ma la mamma non sta così bene perché magari ci sono dei problemi a casa quindi vieni o viceversa magari la figlia che in quel momento non sta bene la grande sfida quindi è innanzitutto far comprendere questa questa dinamica qui no? Che davanti a noi abbiamo persone non macchine per fortuna e persone con tante facce e queste persone con tante facce tante dinamiche tante ambienti in cui si deve collocare la persona devono essere intercettabili dalle altre componenti dalla componente diciamo di manager che guida quel team e ancora di più sfidante da tutta l'assetto organizzativo diciamolo con una parola un po' più semplice che dottia dal datore di lavoro no? quindi abbiamo questi tre grossi componenti la prima è la persona che deve essere in grado di riconoscere su se stessa quando arriva vicino al limite io amo sempre andare in prevenzione mai poi in response no? quindi quando io ho una persona stressata lì ormai io sono in una fase di contenimento di reazione io devo arrivare molto prima quindi in primis c'è questa grandissima sfida di mettere a terra degli strumenti di autocura no? quindi in primis siamo noi che dobbiamo prenderci cura di noi stessi e avere il coraggio me ne rendo conto in alcune situazioni di alzare la mano e dire non ce la posso fare non ho le competenze o non ho le risorse è molto sfidante perché è un tema anche di autostima e di autorealizzazione no? quindi anche in qua dobbiamo e qui arriva la seconda pezzo il datore di lavoro o il manager deve dare gli strumenti al lavoratore per riconoscere questi segnali per riconoscere i segnali su se stesso o se è alla guida di un team riconoscere i segnali all'interno del team e questo secondo me è uno degli obiettivi più sfidanti che ci sono in un'organizzazione ancora più in un'organizzazione dove l'obiettivo è chiarissimo abbiamo l'obiettivo mensile, abbiamo l'obiettivo trimestrale, abbiamo l'obiettivo annuale quindi riuscire a riunire queste due cose raggiungimento dell'obiettivo che come dicevamo prima se messo nel contesto giusto diventa uno stress positivo il famoso eustress che quindi mi aiuta un po' come la macchina con la benzina ha una buona reazione reagisce meglio e quindi lavora meglio ma se invece a quella macchina gli do delle accezioni negative gli sgonfio le gomme o gli do un problema al motore stesso la benzina e il raggiungimento dell'obiettivo mi diventa assolutamente stressante non riesco a riuscire ad arrivare al traguardo tutti noi penso che bene o male abbiamo fatto una verifica alla scuola o un esame all'università poco prima dell'inizio dell'esame o della verifica a scuola siamo tutti stressati perché arriviamo a dover cominciare a fare lo stress ma se questo è preceduto da una fase di preparazione di riconoscimento delle proprie mancanze, lacune nello studio arriverò lì con una buona mia soddisfazione della mia preparazione e quello stress che vivo pochi minuti prima dell'inizio della prova sarà solo propedeutico a mettere a terra il mio risultato se diversamente non ho potuto studiare ho passato la notte in bianco perché è successo un fattaccio in famiglia o perché magari mi sono andata a divertire e ho detto ma sì dai tanto succede questo succederà lo stress improvvisamente diventa negativo la sfida più grande dicevamo è dare gli strumenti anche al management o anche al datore di lavoro e soprattutto metterli a terra quindi dobbiamo uscire io molto spesso mi confronto all'interno dell'azienda con le diverse figure che partecipano alla sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno dell'azienda sul fatto che ma dobbiamo risolvere quel problema non abbiamo la bacchetta magica non è che se io faccio bling da una parte e tolgo quel problema e lo sposto da un'altra parte ho risolto il problema appunto l'ho solo spostato non l'ho risolto e quindi dobbiamo invece dotare le persone di una capacità di generare benessere e qui mi aggancio sulla seconda parte diciamo della domanda quali sono quindi gli attori chiamati a mettere in campo questi strumenti e quali strumenti? Beh è in dubbio che è tutta l'organizzazione che deve mettere a terra questi strumenti in primis è l'alto management che deve trovare da un lato strumenti innovativi noi al nostro interno abbiamo individuato quello che appunto era il progetto benessere che era una serie di incontri proprio per tutti i nostri collaboratori che avevano intenzione di seguire questo progetto che da una parte faceva capire che cosa era lo stress quindi proprio spiegava euro stress e stress diciamo cattivo e dall'altra parte invece cominciava a dare una cassetta degli attrezzi e quindi abbiamo cominciato mi sono ritrovata molto nell'ultimo intervento a fare la yoga della risata a fare il ciclo di coerenza cardiaca quindi anche in questo caso respirazione controllare i battiti abbiamo fatto degli interventi di quelle che sono la musica a 432 hertz che sappiamo essere una soglia di musica che permette un certo tipo di rilassamento ci sono stati addirittura dei progetti pilota a lato che sono nati da una parte un po' come premio post pandemia e un po' come ridare forza a un team che ha lavorato molto in pandemia sono stati attivati dei percorsi di teatro anziché di cucina sempre dello stesso team e appunto questo ha permesso di creare una relazione che fosse slegata dal contesto lavorativo e poi sono cominciati a nascere dei progetti autonomi quindi di iniziativa delle persone uno degli ultimi dove ho partecipato con volentieri è stato un gruppo di persone che si ritrovano a fare la maglia quindi si ritrovano in pausa pranzo e mangiano un boccone al volo e poi si mettono lì a fare la maglia e la cosa che mi ha particolarmente colpito è stato ma io quando faccio maglia e mi trovo qua con voi tutto diventa più silenzioso tutto diventa molto più calmo cioè questo proprio riesco a ripartire nel pomeriggio con molta più energia chi è l'attore principale in questo? ognuno di noi che appunto deve sentirsi libero di poter proporre o provare a mettere a terra delle iniziative le risorse umane sicuramente che devono dare lo spazio e passatemi un termine proprio da risorse umane l'autorizzazione a fare certi tipi di attività no? e le persone non devono sentirsi giudicate questo secondo me è una parte fondamentale no? e se una persona decide di fare un certo tipo di attività non deve poi avere un giudizio che sia positivo o negativo generalmente è il negativo che poi dà il problema nella realizzazione dell'attività che sta proponendo no? dare lo spazio dare il supporto e far riconoscere che quella quell'attività lì è accettata e incentivata dall'azienda no? e in particolar modo secondo me bisogna proprio mettersi in gioco in gioco come lavoratore ma soprattutto come manager e faccio proprio un caso che è successo qualche ora fa è un io mi occupo in azienda insieme ai miei colleghi e angeli come li chiamo io di tutta la sicurezza della banca quindi passiamo dall'antifrode fino ad arrivare appunto alla sicurezza fisica si sa che nei gruppi diciamo di response i livelli di stress sono un po' elevati no? e siamo in una fase dove siamo decisamente elevati ho visto il team particolarmente stanco e noi lavoriamo vicino in cinema e cominciamo ad arrivare l'odore dei poccorn appena fatti noi tutti i ragazzi oddio che voglio eccetera eccetera insomma cosa abbiamo fatto uno di noi è andato giù e ha portato in ufficio due scatolette di poccorn appena fatti fa il cambiamento essenziale non lo fa l'essenziale ma si fa sentire accolti crea un momento di unione all'interno del team ti distoglie un attimo da oddio devo far questo devo far quello è un investimento di dieci minuti fatto fatto grande di dieci minuti ok? perché poi mi vedevo lì a mangiucchiare e comunque essere iper concentrati sull'attività ma a livello personale cosa ha significato questa piccolezza da parte diciamo del manager è ha sentito il mio bisogno ha riconosciuto un momento di stress e ha fatto una coccola usando un termine da mamma magari non molto tecnico no? questo sicuramente poi ha ristabilito e pur mineva parte probabilmente però un certo tipo di equilibrio all'interno del team e ci permette di lavorare poi in modo opportuno quindi ecco poter mettere a terra quindi autonomia nelle iniziative spazio riconosciuto dall'azienda e sicuramente supporto perché logicamente un conto è investire 5 euro in un pacchetto di pop corn un altro è attivare un progetto benessere all'interno dell'azienda quindi lì sicuramente ci vuole l'ingaggio delle risorse umane per tutta la parte di organizzazione e gestione della fornitura ma soprattutto l'ingaggio del top management per tutta quella che è la parte di economics sicuramente spero di essere stata giusta con i tempi poi ditemi voi direi perfetta assolutamente è stato anche questo un intervento interessantissimo io confesso che ho preso appunti come se fosse stata una studente stessa di liceo perché veramente sono interventi molto interessanti e ci dedicherei volentieri molto più tempo in particolare è emerso comunque il fatto che debbano essere interventi integrati e messi a sistema quindi non basta un attore solo ma si agisce sia a livello individuale che a livello di team e a livello di management e quindi la differenza può essere fatta se tutti questi attori diciamo riconoscono in primi su un bisogno come diceva la dottoressa Chistè e si attivano per rispondere a questo bisogno penso che sia un qualcosa che veramente dia molto valore alla componente umana sicuramente sul lavoro ma che possa anche fare la differenza sulla costruzione delle competenze perché comunque le competenze sono un costruire e dare attivazione a delle risorse che comunque noi mettiamo in quanto lavoratori mettiamo in campo in funzione degli stimoli dell'ambiente professionale e personale e dunque più si arricchiscono questi questi stimoli più è possibile anche diciamo attivare delle risorse che ci consentono di far fronte a una varietà di situazioni sempre maggiore ecco quindi sicuramente tutti questi interventi sono preziosissimi e mi auguro che 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 prendano comunque sempre più più piede sempre più spazio all'interno delle organizzazioni sicuramente ce n'è molto bisogno ecco e io ringrazio veramente tutti tutti voi per la vostra partecipazione i vostri interventi che sono stati veramente di grandissimo spunto e di grande interesse e spero di potervi avere con con noi al più presto e vi faccio un vi lancio un invito a seguire anche i prossimi appuntamenti della Fondazione Lavoro per la Persona che in particolare il prossimo sarà tra un mese quindi a fine novembre e appunto le tematiche seguono filoni analoghi e dunque spero che questo tema davvero possa trovare spazio per essere ulteriormente indagato e soprattutto mettere in campo attività sempre più di risposta ecco a questa a questa tematica grazie mille e grazie anche al team della Fondazione Lavoro della per la persona e quindi Giorgio Francesca Sonia e anche Gabriele che anche se non è purtroppo collegato comunque salutiamo e vi ringrazio molto per per il webinar ciao a tutti Grazie a tutti